Nella prima lettura e nel Vangelo si parla di chiamata, ma quando Dio chiama, chiama per mandare. Quindi vocazione e missione sono intimamente connessa. Tutti i profeti hanno raccontato la loro chiamata. Anche Amos, abbiamo ascoltato nella prima lettura, ha parlato della sua chiamata. Egli era un mandriano, coltivava piante di siccomoro, quando a un certo momento Dio lo chiama. Va, profetizza al mio popolo Israele. Amasia, che era sacerdoti di Betel, Betel si trova nella Samaria, quindi nel centro della Palestina, disse ad Amos vattene, la gente, ritirati nella terra di Giuda, ossia vai nel sud, ma qui non sei bene accetto. E Amos dice, non sono io che ho preso l'iniziativa di parlare in nome di Dio qui ad Israele. E la chiamata di Dio, Dio mi ha detto che devo profetizzare alla casa di Israele e devo ubbidire al Signore. Come profeta devo dire le parole di Dio e che cosa predicava l'oggetto della predicazione di Amos? La conversione. Convertitevi al Dio vivente. Ricordatevi che Dio ha fatto alleanza con voi e voi dovete vivere secondo la legge dell'alleanza. Ricordiamo Mosè che ha fatto il sacrificio dell'alleanza. Dio diventa il Dio del popolo, ma l'uomo, Israele, deve vivere secondo la legge di Dio. Ecco, bisogna vivere questa alleanza bilaterale, un impegno reciproco da parte di Dio e da parte dell'uomo. E Amos diceva che dobbiamo vivere l'alleanza, dobbiamo convertirci a Dio e non avere altri idoli. Dobbiamo convertirci a Dio cercando di vivere sempre anche una giustizia sociale, perché a Dio non piace chi non vive secondo il suo cuore. Ecco, il profeta che viene chiamato è il profeta che realizza la sua missione. Anche nel Vangelo abbiamo ascoltato Gesù chiama gli apostoli. Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due a due. L'ha chiamata la missione. E cosa dice Gesù? Predicate che la gente si converta. E nello stesso tempo gli apostoli scacciavano i demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Era la mia stessa missione di Gesù che continuava negli apostoli. Gesù dice secondo i Vangeli il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Gli apostoli devono continuare nel tempo e nello spazio la stessa missione. Il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. E Gesù dice agli apostoli non portate con voi né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma un bastone e non portate neppure due tuniche. In fondo Gesù dice l'efficacia di questo vostro impegno apostolico, non confondetelo diciamo con la tecnologia, con le capacità tecnologiche che vi danno un pochettino più di sicurezza. L'efficacia è legata all'azione dello Spirito. Per questo siate sgombri da tutto quello che non è proprio l'essenziale, cercate di portare con voi sempre la vostra vocazione di essere segno della presenza di Dio che invita a conversione, che invita la verità, l'autenticità della vita. E gli apostoli hanno vissuto questa missione di Gesù. Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di là, se in qualche luogo non vi ascoltassero, non vi accogliessero, andate e ne scottete la polvere sotto i vostri piedi. In altri termini dice Gesù, lasciatevi condurre dallo Spirito. Nella vostra vita non ci saranno semplicemente gratificazioni, ma ci potrebbero essere anche dei momenti di rifiuto. Non ha importanza, è Dio che opera e opera attraverso la vostra fragilità, la vostra povertà. Ed essi proclamarono che la gente si convertisse. È bello pensare che anche noi siamo chiamati a vivere la nostra vocazione, la nostra vocazione battesimale. Siamo chiamati ad essere santi, ma come? Vivendo il nostro battesimo. Ma nel battesimo abbiamo ricevuto il monosu sacerdotale, regale profetico e noi dobbiamo vivere nel mondo oggi, portando proprio a tutti questo nostro annunzio profetico, sacerdotale e regale. Non mi vorrei in un modo particolare soffermare sulla seconda lettura, chiedi una bellezza grande. Si tratta di un inno cristologico. È proprio l'inizio della lettera agli Efessini. E Paolo inizia questo inno dicendo benedetto sia Dio che ci ha benedetto con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo Gesù. E subito dopo in questo inno continuamente dice il Lui, il Lui, il Lui. E ci fa notare qual è la nostra vocazione. Da notare che tutta l'antropologia cristiana la possiamo proprio disumere da questo inno cristologico. Chi siamo noi? In primo luogo siamo delle persone benedette. Benedetto sia Dio che ci ha benedetto. E allora chi siamo noi? Siamo dei benedetti. Ed è bello pensare che in tutta la nostra vita continuamente sentiamo il bisogno di sentire questa parola. Quante volte mi chiedono, Padre Pasquale, una benedizione? Sì, certo, sei già benedetto. Io te lo ricordo, confermo questa benedizione. Siamo dei benedetti da Dio con ogni benedizione. Quindi non è una benedizione di poco conto. Con ogni benedizione siamo stati benedetti. E allora in Cristo Gesù noi possiamo ritrovare noi stessi, la nostra identità, la nostra missione, la nostra specifica realtà. Il Lui ci ha scelti, Dio ci ha scelti, prima della creazione del mondo. Siamo delle persone scelte. Sì, scelte. Elette. Ognuno di noi ha un nome. Ognuno di noi ha una sua specificità. Ognuno di noi ha una sua preziosità. Siamo delle persone scelte. Qual è la nostra vocazione? Per essere santi e immacolate al suo cospetto. Dio ci elegge per partecipare a noi la santità e l'immacolatezza. E noi dobbiamo vivere proprio questa dignità. Essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità. Grazie Signore, grazie.